E' stato un 2020 dinamico per il mercato immobiliare, persino sorprendente se pensiamo all'emergenza Covid e ai due mesi di lockdown. Il rapporto annuale sull'andamento del mercato immobiliare urbano è stato presentato in videoconferenza dalla FIAIP in collaborazione con l'Enea e con l'Istituto per la Competitività. Il primo dato che spicca è la crescita del 12% mensile delle compravendite nei 10 mesi di piena attività, ovvero solo 40.000 transazioni in meno su base annua, al netto dei due mesi di chiusura totale. Tra le tendenze più interessanti emerse, il più 20% di ricerca degli under 30 di casi da acquistare, compici anche i tassi devuto e minimi storici. Tra le tipologie, preferenza netta per i trilocali e per le villette con spazi esterni. Trend che però non hanno significato sempre una risalita dei prezzi. Ad un aumento del numero di compravendite purtroppo non è corrisposto un aumento dei prezzi, perché i prezzi continuano a mediamente ascendere, abbiamo registrato circa il 2,3%. Dico mediamente perché nelle grandi città, quale Napoli, Bologna, Firenze ed in particolare Milano, ci sono state degli aumenti dei prezzi. Segno più anche per il numero delle locazioni, con uno spostamento dagli affitti brevi e a vocazione turistica verso quelli residenziali con durata ordinaria. Un cambio di orientamento che si è tradotto in un calo medio del 2,3% dei canoni, meno 5,3% e 4,7% invece rispettivamente per quelli commerciali e per gli uffici. Effetti questi soprattutto delle numerose rinegoziazioni generate dalla pandemia. Sul fronte dell'efficienza energetica di un patrimonio immobiliare mediamente ancora piuttosto datato, l'introduzione del super bonus 110% ha iniziato a spingere la domanda degli immobili da ristrutturare, sebbene sia andato a regime solo negli ultimi mesi dell'anno. La classe energetica sta cominciando sempre più, almeno per quel che riguarda in particolare gli immobili di pregio in zone centrali, ad entrare nelle valutazioni e quindi anche chiaramente nel budget dei potenziali acquiretti. Chiaramente la pandemia ha portato, ma questo non solo in Italia, ha mostrato anche a livello europeo a rivedere quelle che erano gli interventi, la programmazione degli interventi. il 110% ha un po' polarizzato, iniziato a polarizzare, ma ci aspettiamo che polarizzerà ancora di più la domanda. Da una parte verso gli edifici meno efficienti, perché chi programma l'acquista di un immobile in un certo senso interiorizza anche il processo di efficientamento grazie al 110%, ma dall'altra potrebbe anche spingere gli immobili nuovi molto efficienti, perché chi compra un immobile si trova davanti a una scelta. Ristrutturo io l'immobile dal punto di vista energetico oppure acquisto un immobile già molto molto performante dal punto di vista energetico. Per il 2021 intanto arrivano segnali positivi con una proiezione di crescita tra il 6 e l'8%, ovvero fino a 600.000 compravendite e una progressiva stabilizzazione dei prezzi. Si prospetta dunque un anno di consolidamento per uno dei motori dell'economia italiana, che da una parte beneficerà del graduale ritorno alla normalità grazie alla campagna vaccinale e dall'altra del pieno utilizzo degli interventi che il governo Draghi saprà mettere in campo in attuazione e in aggiunta al pacchetto da circa 15 miliardi approvato nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Si parla ad esempio della garanzia dello Stato attraverso CONSAP, dei mutui prima casa per gli under 35, tutte misure apprezzate dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali che ha però idee chiare su ulteriori e più strutturali proposte in tema di transizione ecologica, digitalizzazione e del sempre più necessario riordino della fiscalità. Secondo noi nell'ambito della riforma fiscale il governo non può non includere un riordino e una riduzione della fiscalità attraverso due proposte in ambito residenziale che sono la deducibilità del LIMU anche per le persone fisiche e anche per le abitazioni e una tassa unica sulla casa, ovviamente mantenendo esente l'IMU sulla prima casa. Sull'ambito non residenziale invece l'introduzione dell'acidolare secca per tutti i contratti di locazione a uso diverso dall'abitativo quindi il commerciale e rendere strutturale il credito d'imposta per le locazioni commerciali per tutto il 2023.